Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi, oggi, cari amici, è sabato, sabato, 3 dicembre 2011 e sono ora le 9 del mattino. Vedete il titolo di questo video? Tanta voglia di sesso in Arabia. E siamo alle solide, cari amici, siamo alle solide. Solide, è la stessa cosa. Siamo alle solide o siamo alle solide non cambia niente. Perché la voglia di sesso è una cosa solida, ma è anche solida, 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 una cosa solida. Vedete il giornale che cosa scrive? Arabia Saudita, no alle donne alla guida, due punti aperte le virgolette. Scatenerebbe la loro voglia di sesso. Questo giornale, cari amici, è il giornale quotidiano della mia provincia, la provincia di Mantua. Si chiama La Voce di Mantua e lo vendono, lo vendono, La Voce di Mantua. Si compra col quotidiano la stampa al prezzo di un euro. Vedete? Con un euro uno si porta a casa due quotidiani. Un quotidiano nazionale come La Stampa e il quotidiano provinciale come La Voce di Mantua. La Voce di Mantua. Vedete, cari amici, a Mantua abbiamo due quotidiani. Uno è intitolato La Voce di Mantua e l'altro è la gazzetta di Mantua. La Voce di Mantua ha fatto un accordo col quotidiano torinese La Stampa e uno si compra con un solo euro, non un euro e venti, un solo euro, due quotidiani, due quotidiani, infatti tutti e due. E questa volta mi ha sorpreso questo titolo. Arabia Saudita, no alle donne alla guida, scatenerebbe la loro voglia di sesso. E siamo alle solide, alle cose fondamentali. E anche la parola fondamentale, sapete che si usa in questi ultimi giorni non più come aggettivo, per esempio i diritti fondamentali, questa è una cosa fondamentale, no, si usa come sostantivo, cioè come parola che ha un valore a sé stante, i fondamentali di una nazione. Negli ultimi mesi gli economisti, le agenzie di rating, l'hanno usata ad libidum la parola i fondamentali, i fondamentali dell'economia. Hanno detto che i fondamentali dell'Italia, fondamenta e fondamenta, i fondamenti fondamentali sono solidi, sono solidi i fondamentali dell'Italia, oppure no, non sono solidi a seconda delle agenzie di rating. E vedete che anche il gergo bancario è fortemente aggrappato al bancario, economico, aggrappato al concreto, al concreto. Andiamo a vedere come sono i fondamentali di tale Stato, cioè qual è il suo PIL, prodotto interno lordo, il PIL, qual è il suo livello di produttività, il livello di occupazione, di disoccupazione, sono i fondamentali. Nel gergo economico la parola fondamentali ha un significato molto preciso, capito, fondamentali, è come la parola testimone, testimone, il testimone è uno che ti garantisce, il testimone però deriva dalla parola latina testes, che significano gli attributi maschili, i testes, insomma i testicoli, testes, testimone, testimone, ci vuole un testimone, ci vuole, e se uno ha i testes, i testes, può fare il testimone, testes habet, testes habet, ai testicoli, possiamo stare tranquilli, capito, come agganciato alla concretezza, a tutto ciò che ha a che fare con il denaro, ma soprattutto anche con la sessualità, non si scherza mica, e si può dire siamo alle solide, siamo alle solide, siamo alle solide cari amici, alle cose solide, solide ma anche solide, anche sono molto solide queste cose, è bellissimo l'articolo cari amici, io non potevo rinunciare all'idea di farci sopra un bel video, tutto per voi, non alle donne alla guida, scatenerebbe la loro voglia di sesso, in Arabia Saudita, sempre che la monarchia abbia concesso il diritto di voto, malvolentino, ci dice, ho torto collo, malvolentino il diritto di voto tra uno o due anni, che poi chi vivrà vedrà, ma teniamo presente che l'Arabia Saudita è il cuore dell'Islam, perché l'Islam poi si è espanso, è arrivato sino al Pakistan, all'Afghanistan da una parte, dall'altra parte è arrivato sino a Spagna, aveva quasi varicato i Pirenei, quindi l'Islam però è nato in Arabia, in Arabia Saudita, l'Arabia Felix, dicevano gli antichi romani, qua ci sono i leoni, non possiamo andare più in là, il cuore, per forza che sia il cuore, un po' come il cristianesimo, qual è il cuore del cristianesimo? L'Italia, l'Italia, per cui se un italiano vuole fare certe cose, non le può fare, magari deve andare all'estero per farle, è così, una donna araba, se vuole guidare l'Arabia dente, deve spatriare, deve spatriare, capito? Come gli italiani, tante cose che voi sapete, che devono andare a fare all'estero. Allora, qua vediamo un po' che si scrive, non c'è niente più vergini nel Regno Saudita, se sarà permesso alle donne di sedersi al volante. a lanciare l'allarme moralista sono gli accademici del più importante consiglio religioso dell'Arabia Saudita, che in un rapporto shock destinato all'assemblea dell'ashura, mettono in guardia dal concedere alle donne il diritto di guidare. non ci hanno mica d'orto, non sono mica degli stupidi questi signori, no, no, è proprio vero, è proprio vero. io ormai sono stanco di dimostrarvi la documentazione che già c'è nel mio archivio, quella già mostrata tante volte, quella già mostrata circa il comportamento delle donne, nei paesi dove si può vedere se quelle donne possono guidare la macchina. non hanno torto, il fatto però è che gli uomini in Arabia Saudita non hanno torto a dire che se gli diamo la patente alle donne ciò scatenerebbe la loro voglia di sesso, il fatto però è che loro, gli uomini, ce l'hanno la patente, capito? ce l'hanno la patente e qui il punto, andrebbe bene se in Arabia Saudita né uomini né donne potessero guidare l'automobile però è vero che no alle donne alla guida due punti scatenerebbe la loro voglia di sesso. Allora cosa potrà mai succedere in Arabia Saudita poiché le donne in Arabia Saudita non hanno la patente e non è che se non hanno la patente non fanno niente, le fanno sempre le cose, le fanno e solo che le fanno, scusate la parola, la pirola, scusate, è solo che si fa le cose che devono fare in un ambito un po' più distretto e qual è l'ambito? L'ambito in cui si muove una donna che non ha la patente, qual è l'ambito? L'ambito è la scelta famigliare, è la scelta famigliare dove le cose si fanno ma non si dicono perché il sesso non lo puoi bloccare il sesso è come l'appetito, noi abbiamo i due istinti, sono i nostri padroni, l'istinto di conservazione che ci spinge a mangiare, colazione, pranzo e cena, colazione, pranzo e cena e poi abbiamo l'istinto di perpetuazione nella specie che ci spinge a gestire la sessualità, uno la sessualità se la può gestire pure da solo ma non è tanto contento di gestirla da solo, ci vuole un partner, una partner, allora se tu a me mi impedisci di guidare l'automobile non posso prendere la patente io non mi guardo intorno in famiglia, mi guardo intorno in famiglia, se io sono la sposa in famiglia e ci sta mio marito e i figli miei, però ci sta pure come uomini, ci può essere pure il papà del marito mio, pure il papà, è un uomo di papà, è un uomo, ci può essere il fratello del marito mio, è un uomo pure il fratello del marito mio, oppure ci può essere il cognato, il cognato, un mio cognato, un mio cognato, perché magari mio marito ha una sorella, questa sorella si è sposata con un uomo e questo uomo che ha sposato la sorella e il mio marito è il mio cognato e circola in casa, circola, circola in casa, circola, circola e devo aspettare solo un momento opportuno, ma poi è ampia la nomenclatura, la struttura della famiglia monocamica e circola è ampia, non solo c'è il papà di mio marito che magari è ancora un uomo vigoroso e seppure il papà del mio marito che magari è un vecchietto arzillo, è uno che tace poi, è uno che tace perché si tace, si fa ma non si dice, ciascuno lo fa ma nessuno lo dice e tuttavia siccome si ritiene che certe cose non si possono fare in famiglia, allora uno è tranquillo e dice mi muoio non c'è la patente, perché effettivamente però con la patente e con l'automobile le puoi fare di più, cioè hai più opportunità, ti puoi allargare, ti puoi allargare e poi se le cose succedono in famiglia pazienza, non scappano fuori perché in famiglia se le cose si fanno ma non si dicono, cioè ripeto per la sposina che non ha la patente c'è il papà di suo marito, il fratello di suo marito oppure il marito della sorella di suo marito, insomma la scelta si allarga abbastanza, abbastanza e per cui, però qua c'è la parola giusta, e qua c'è scritto scatenerebbe la loro voglia di sesso, cioè la voglia di sesso ce l'hanno, già di loro, è naturale che sia così, è naturale, è stato il creatore che ci ha messo dentro di noi i nostri due padroncini, l'istinto di sopravvivenza, mangiare, e l'istinto di perpetuazione della specie, brutto tempo, copulare, però questa naturale voglia di sesso che c'è, senza la patente, se ti diamo la patente, si scatena, aumenta ancora di più, perché hai un senso di libertà, un senso di libertà c'hai, e si dice che l'appetitore viene mangiando, no, andiamo, insomma qua, eccolo qua, secondo gli eruditi islamici, e questo, cioè dare la patente, scatenerebbe la loro voglia di sesso, eccetera, ma insomma non ci saranno più vergini, non ci saranno più vergini, aumenteranno pornografia, divorzi, e via di seguito, e allora, prima di chiudere, perché questo è un video breve, va bene, un video breve, non vi voglio annoiare più di tanto, ma il fatto è che, perché gli uomini, vi ho già detto tante volte, che il patriarcato, dove avvengono queste cose, il patriarcato, dove avvengono queste cose, io ho descritto molto bene, il matriarcato, in questo romanzo storico-mitologico, la stirba del serpente, che si trova nel catalogo, a Liberti editore, Francesco Aliberti editore, io ho descritto bene il passaggio dal matriarcato al patriarcato, non posso riassumere di nuovo un 2300 video, e però in tanti video ho detto, che la storia del patriarcato, nella sua essenza, l'altro non è, che la storia, di tutti gli uomini in patriarcato, che continuano a controllare, le proprie mogli, e sempre dico la paura di essere dei cornuti, e vi ho anche spiegato che la parola cornuto la si pronuncia al maschile, e non si dice una donna sei cornuta, capito? Non vale per la donna, perché la donna, quando fa un bambino, il bambino esce sempre dal suo pancino, il bambino esce sempre dal suo pancino, e l'uomo, che non lo sa mai, con certezza, se il bambino che esce dal pancino, dal pancino della sua moglie, è figlio del suo spermo di sperma altrui, capito? Capito? cercate di allargare l'orizzonte, la parola cornuto ne si addice solo agli uomini, alle donne non gli può dire cornuta, cornuta, qualsiasi figlio faccia a loro esce sempre dal loro, crembo, crembo, d'accordo? Sì, sì, è così cari amici, non consolatevi dicendo mamma io conosco una donna e il marito gli mette un sacco di corna, sì, sì, ma non regge, non regge, perché la paura delle corna è legata al bambino che nascerà, ai bambini che nasceranno e tutto lì il problema è collegato allo sperma e ogni uomo ha paura che la propria moglie andando con un altro uomo ricevendo lo sperma altrui gli faccia un bambino che non è del suo sperma e tutto ecco perché è cornuto, gli uomini sono cornuti, le donne non sono mai cornute, se anche il loro marito va con altre donne e non è che il marito andando con altre donne poi torna a casa incinto, capito? Capite la sottile, la sottile, anzi la solida, la solida differenza, la capite? la fondamentale differenza cari amici e per cui fin dall'inizio del patriarcato gli uomini hanno cercato disparatamente di controllare la sessualità femminile perché sapevano o sapevano con tanta saggezza, lungiminanza che la donna ha una capacità gaudente, una capacità di godimento infinitamente superiore alla miserabile capacità dell'uomo che consiste in una eiaculazione che può durare per quanto possa essere la fuori uscita, può durare 4-5 secondi, la donna è capace di avere orgasmi prolungati che durano ore e ore e ore ma si, ma si, ma si se poi le vostre donne non ce l'hanno l'orgasmo prolungato che dura ore e ore e ore vuol dire che voi non siete capaci di metterla in moto la vostra come si chiama la vostra Ferrari ma è così, è così, è così e come i uomini c'è il mito di Tiresia e questi qua questi qua dell'Arabia Saudita si muovono come se come se conoscessero il mito di Tiresia e nel mito di Tiresia io vi ho già parlato tante volte mi pare che ci sia un mio figlio intitolato il mito di Tiresia comunque è scritto lì nel mio romanzo capito Tiresia poveretto siamo all'incirca ai tempi che precedono un po' la guerra di Troia quindi siamo nel 1200 avanti Cristo e siamo nella Micenia quella che oggi si chiama Grecia allora era Micenia perché la città più importante era Micene Micene Agamennone Agamennone quello che comanda le truppe contro Troia era re di Micene e in Micenia in una certa grande circostanza c'è un certo Tiresia un uomo tanto saggio e in cielo era scoppiato diciamo un battibecco tra Giove e Giunone perché Giove Giove e Giunone litigavano marito e moglie marito e moglie litigavano fra di loro perché Giove diceva quando noi due noi due Giove e Giunone facciamo l'amore tu Giunone godi di più e Giunone diceva no quando noi due facciamo l'amore sei tu Giove a godere di più allora diceva vabbè rivolgiamoci al mortale all'uomo al mortale Tiresia che è un saggio e fecero la domanda senti Tiresia quando noi due Giove e Giunone ma anche quando tutti gli altri fanno l'amore chi è che gode di più e Tiresia rispose così se dividiamo il godimento dell'amore in dieci parti e nove parti nove parti se le prende la donna e una parte l'uomo cioè vuol dire che se l'uomo ha un godimento X la donna ha un godimento 9X capito e allora Giunone si era vista smascherata che Giunone non voleva che Giove sapesse che lei Giunone godeva di più quando faceva l'amore con Giove capito perché e dopo sei debitore sei debitrice debitore uno si può vantare vedi quanto l'ho fatto godere eccetera 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 e allora stramaledì stramaledì Tiresia che morì malamente è tutto narrato per filo e per segno nel mio romanzo cari amici sembra che in rabbia le sappiano queste cose che la donna gode nove volte di più dell'uomo capito scatenerebbe la loro voglia di sesso e quindi sono sempre lì che tremano che tremano che controllano e per cui all'inizio del patriarcato saggi tanto molto più saggi dei siglum freud i patriarchi avevano scoperto che le donne godevano soprattutto non nella profonda intimidade ma nella superficie dove c'è un fiorellino che si chiama clitoride il clitoride o la clitoride perché non si sa mai se è maschile o femminile sì in certe lingue è solo maschile in certe lingue è solo femminile però in Italia sia maschile che femminile e quel bel fiorellino glielo tagliavano così impari la clitoridectomia che c'era sino all'altro c'è in tutto il mondo ancora in tutto il terzo fondo però in Egitto c'era Egitto Cairo alcuni anni ha imparato la linguaria si è seduta attorno al tavolo Emma Bonino con altre donne avanzate e via hanno diciamo ottenuto che il Parlamento Egiziano dichiarasse illegale illegittima cioè penalmente perseguibile la clitoridectomia c'è ancora è nascosto ma c'è ancora facevano la clitoridectomia facevano infibulazioni poi c'erano i vari vestimenta persino al burca poi c'era l'apidazione un esempio di l'apidazione ce l'abbiamo persino nel Vangelo di Gesù Cristo capito nel Vangelo sapete no che Gesù Cristo blocca una l'apidazione un'adultera si parla di un'adultera cioè una che aveva messo le corna al marito magari era stata accorta un fragrante e gli dice mentre erano tutti lì i patriarchi pronti a lapidarla e Gesù dice vabbè scagli la prima pietra chi di voi è senza peccato e loro piano piano sapendo che ognuno di loro aveva qualche peccatuccio mollano un esempio ce l'abbiamo lì poi magari mica ci riflettiamo sul fatto del perché nel Vangelo c'è questo episodio dell'adultera che doveva venire a lapidare ma c'è pure oggi magari è proibito dalla legge ma l'istinto l'istinto patriarcale c'è c'è ogni tanto si sente parlare magari di frustate via di seguito in Iran c'è il caso grosso di questo tipo ne ha parlato la stampa internazionale una donna che con l'amante sembra che lei e l'amante abbiano ammazzato il marito insomma eccola qua la situazione cari amici eccola qua scatenerebbe la loro voglia di sesso cari amici cari amici siamo alle solide va bene siamo alle solide siamo ai fondamentali cari amici va bene va bene cari io ho finito grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti